Bella ragazzi, sono adesso bentornati in questo prossimo episodio di Digimon World DS Allora, siamo pronti a fare questo altro lavoro, il lavoro 9 Un vasino è stato messo nella tua Digifarm Io il vasino ce l'ho, sono riuscito a prendermelo, anzi ve l'ho anche fatto vedere Forse Allora, aspetta, allora cambio Vado qui nella Seacon Farm, dove vabbè non c'è nessuno E metto il vasino, che poi non è altro che il coso Eccolo qua La toilette Ma si, mettila qua Ok In realtà Qua non dice niente Un vasino è stato messo nella tua Forse, allora comunque nel dubbio andiamo qui Facciamo un'ulteriore Digiconversione Che ne so, Silphimon, non lo so, proviamo Allora, aspetta, fammi vedere se c'è Warmon qui No, mi sa che non ce l'ho Allora, Silphimon nella Farm Second Farm E adesso se ti parlo Ecco qua Ehi Drago, hai un momento? Certo, che succede? Guarda il bagno che hai piazzato La cartigienica è quasi terminata Ma se l'ho appena messo Quindi se non ti spiace Potessi procurarmi un nuovo rotolo? Credo che potrei trovarne uno a picco vigore Ma così sai, a picco vigore trovi le cartigieniche Già ai rotoli così E già per terra Vabbè Ah, grande aiuto Sì, sì Per i rotoli Certo Vabbè, questo penso che sia per qualunque Digimon Penso perché non Perché non ha detto un Digimon preciso Cioè, bastava solamente Mettere il bagno Adesso vediamo dove è sto rotolo E dai Dai Dai, il rapporto Mi sa che si trova più o meno A metà strada, infatti Guarda, non l'ho neanche finito di dire Eh dai, sto rotolo, va Oh, la cartigienica Meglio ritornare alla Digifarm Ma sì, dai Torniamo indietro, va No, qui qua Vabbè, è abbastanza semplice qui in realtà Abbastanza semplice Sì, il Digimon Si sta continuando a potenziare Ma non si rende conto che tanto io non la andrò mai a utilizzare Vai, scendi Che siamo Arrivati Sbam Terriormon, sei sempre in mezzo alle balle Ma non ti puoi spostare un po' più a sinistro o a destra Invece di Otturare lì il coso Allora Dove sei? Silphimon Ah, sei tornato Ebbene, hai trovato della cartigienica? Tieni, eccotene un po' Oh, bene Sei stato davvero bravo Questo rotolo basterà per un bel po' di tempo Davvero, sono felice di sentirlo Così Prego, hai fatto un ottimo lavoro Hai risolto una brutta situazione Grazie Sì, però Senti Fammi sapere se c'è altro che posso fare Forse perché ci dà un'ulteriore missione No Ok Sì, il filmon basta Direi che è il momento di eliminarla permanentemente Ecco qua Warmon Non è tuo alleato Infatti non è mio alleato Almeno da quello che ho visto Vimon Vabbè, questo qua Vediamo Tapir Tapirmon Mi sembra di averlo visto Non mi ricordo bene dov'è Aspetta Lo vediamo subito dov'è Eccolo qui Tapirmon Infatti mi Mi sa che si trova Fammi vedere Ah, Piccovigore Vabbè, facciamo questo Ritorniamo a Piccovigore Cerchiamo Però mi sa che è abbastanza raro A me ok Non si trova nella parte finale Cosa che secondo me Si trova nella Nella parte finale Aspetta È Piccovigore questo Sì, sì È Piccovigore Se lo dovrebbe trovare qua Nella parte finale Vediamo Ma qui non No, aspetta Adesso io ho pure sbagliato strada Perché lì non porta niente È un vicolo cieco Però ragazzi Ripeto Mi sa che è anche abbastanza raro Però da Trovare Vediamo Vediamo No Oh, alleluia Eh ragazzi È abbastanza raro Che cosa C'è C'è ragazzi C'è Black Tyrannomon Porca vacca Allora Facciamo I penossi Su tutti e tre Vabbè Vabbè A parte che Lo dovrei one shottare O massimo B shottare Perché è abbastanza Va bene Li ho Li ho addormentati tutti quanti Quindi adesso facciamo Sbam Sbam E sbam E dovrebbe bastare Ma che Ma si è risvegliato Poi Non ho capito Vabbè Un semplice attacco carica Dovrebbe bastare Sbam Ah e mi dà pure L'anello critico Hai visto Però è È alfa Quindi Fa abbastanza cagare Da che Terrà 50% No ragazzi Non vuole più Uscire Non sta uscendo Più ragazzi C'è qui C'è Altro che Raro C'è C'è qui Altro che Raro C'è ragazzi Sta uscendo Più volte Dark Tyrannomon C'è Non c'è Penso voglia Dire tutto No niente ragazzi C'è qua Proprio C'è esci Più volte Tyrannomon Mi è già uscito Tipo 7-8 volte C'è 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 veramente Una sola volta Non è mai successo C'è una volta sola E ha perso Tappi C'è sì Quelle qui Ti è Guarda Due volte di fila C'è questo per dire Allora Qua in questa schermata Tapiromon Dovrebbe saltar fuori Perché non salta fuori C'è Allora Vi ho fatto vedere Che è apparso Quindi In questa schermata Dovrebbe apparire C'è Ho capito Che Sì Ti è Unesima volta Ho capito Che È raro Ma C'è È troppo raro Qua ragazzi Adesso È troppo raro E basta ragazzi Mi sono rotto le palle Tapiromon Lo farò Off camera Perché c'è Davvero C'è Sarà già uscito Tipo 20 volte Dark Dark Tyrannomon C'è Ma C'è Ma Seriamente Rochemon Nella tua farm Facciamo Rochemon Allora Ma Non l'avevo Già Fatto Scusa Mi sembra Di averlo Già 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 Accettato No Ti è Il 45 Se Hai Voglia Il 45 Ma Perché Sta ancora Il 999 Questo Vabbè Allora Sono così stressato Guarda Non dirlo a me Che cosa succede Rochemon Visto che sono Un rochemon Adoro stare Nella spazzatura Guarda caso È uno Scarafaggio Ma Questa farm È così pulita Che mi sento Soffocare Ma Così Proprio Prego Se non ti dispiace Potresti andare Da garbage Mon Nell'acquedotto E prendermi Un po' Di spazzatura Ci tocca Davvero Grazie Non vedo L'ora Ma Questo vuole La spazzatura Perché La troppa Polizia Lo soffoca Certo Andiamo Nell'acquedotto Dobbiamo parlare Con Garbicimon Il problema Adesso Dov'è lui No Lì è una strada Chiusa Non penso Che si trova Alla Mi penso Che Si trova Guarda Quasi sicuramente A metà strada Ah E poi Poi per una strada Chiusa Questo Scusate Dobbiamo andare Parti qua Un Garbicimon Nell'acquedotto Poi E io non capirò mai Perché Nelle fogne Ci devono mettere Sidramon Cioè Io Questa cosa Proprio Ma Sidramon Cioè Poi I Sidramon Vivono nei Cioè Ma vivono nei Laghi Vabbè E poi Non l'ho detto mica Io questo Dice Direttamente L'anime Che i Sidramon Vivono Tipo Nei Mari E Nei Grandi laghi Ora Perché Hanno messo I Sidramon Pure qua Ma Veramente Ma tu Mi stai Prendendo Per il culo Si Ma Ma Mi stai Tom, guarda chi c'è Ehi Gadgermon, posso parlarti? Se vuoi gettare la spazzatura, devi differenziare i rifiuti Così No, non si trate di questo A dire il vero, potresti darmi un po' della spazzatura che hai raccolto per il mio Rochmon? Oh, in questo caso prendine quante vuoi Per il Rochmon, che ne dici di qualche pezzo di spazzatura putrefatto? Oh, che puzza Questo ammasso dodori potrebbe essere perfetto Dovresti portarlo in immediatamente O finirei per gustarti la La fragranza tutto da solo Ah, guarda Non ho altra scelta, grazie E poi la spazzatura Ho della spazzatura Con un che faccia triste Tra l'altro Vabbè, ma ti voglio vedere, scusa eh Eh, adesso Cioè, vorrei portare con sé della spazzatura proprio Ma cosa ti ho menti di HP? Oppure te? Allora Ah, Drago mi è tornato Hai incontrato Garbicimon? Sì Ho preso questa Spazzatura marcia Che odore buonissimo Questo è sicuramente molto soddisfacente Grazie a Drago, ti sono molto grato Sta solo attento con la spazzatura Non scalaventarla troppo in giro Ovviamente no, non temere Sono un po' in pensiero Ma se Rochmon è felice mi sta bene Io neanche tanto Sai come Avere della Della spazzatura Ok, basta Ah, posso fare anche questo Di livello 40 superiore Come tuo alleato 40 Eh, hai voglia I miei Digimon Ne sono addirittura Oltre il 60 Quindi Allora Drago, posso parlarti un secondo? Certo, cosa c'è? Mi piacerebbe Molto qualcosa di gommoso Come il Il natto Si Perché Oramai è detto un po' che Che ne ho Una voglia Potresti procurarmi Vabbè Grande, grazie per l'aiuto Ma dove posso trovare Il natto? Beh, se non sbaglio Giù alla discarica Un Un Raremont Ne ha un bel po' Ah Nella discarica Ra Raremont Poi Potresti trovarlo E E fartene dare qualcuno Vai, andiamo Che è? Eh, ma sempre in mezzo alla spazzatura Cioè, che cacchio è? E scarica, va Ah, guarda qua Vabbè, meno male che è abbastanza vicino Ma dai, non ti puoi buttare giù da lì Che sarà Tipo Mezzo metro Dei Alattezza Dai, ma chi è? Cioè, se lui Saltasse giù Sarebbe già arrivato Praticamente I rapporti Ma no Deve fare il giro lungo lui Perché lui E' speciale Che cacchio Allora Raremont Eh Ciao Posso parlarti un attimo? Allora Già di fatto Che un Raremont Parli Già questa cosa Perché io mi Mi baso molto sull'anime E sull'anime Raremont E' uno dei pochissimi Ma pochissimi Digimon Che non parla Che non parlano Fanno versi Raremont Nel caso suo Lui fa i versi e basta Non ha mai parlato In quelle volte in cui è Apparso Non ha mai parlato Ora che qui parla Fa Fa abbastanza strano Certo Di che si tratta Per caso Avresti qualche natto Così Se vuoi saperlo Sì I natto sono gommosi Ecco perché li adoro Se non ti spiace Potrei averne qualcuno Ok Chiunque ami I natto è mio amico Così Sarò felice Di dartene qualcuno Grazie Ci si vede I natto Sono semi di soia Fermentati Sono buoni Per il corpo Quindi mangiane Tanti Bene Quindi adesso Anche voi sapete Che cosa sono In atto Sì Ho tenuto In atto Sono Semi di soia Fermentati Che si mangiano Così Ultimamente C'è Tanta pace Sono Sono felice Buon per te Adesso si ritorna a casa C'è casa Per modo di dire Tererons Non ti levi Porca miseria Oh drago Grazie per il tuo Impegno Ecco Gizamon Tieni Oh Natto gommosi Devo gustarmeli Immediatamente Sono così Gommosi E deliziosi Grazie Drago Sono così felice Sono lieto Che Gizamon Sia felice Così Qualcos'altro No Tyrannomon La tua galleria Digimon È piena Di 120 O più Digimon Posso farlo Posso farlo Perché sono A 147 Posso farlo Tyrann No aspetta Tyrannomon Ne dovrei già Averceli Di diversi Anzi Ne dovrei avere Due Tipo Allora Digibank Ne dovrei avere Addirittura Due No No Allora li ho Eliminati Vabbè Non è tanto Grosso Un problema Posso sempre Digiconvertirli Quindi Non è Troppo un problema Oh Eccolo qua 885 Già questa Già più Decente 885 Cioè Vabbè Non è il top Però comunque Cioè Potente Adesso basta vedere Le sue statistiche Guarda Le stati Di adesso E guarda Sbam Cioè Tutto dire Ma perché Sono sempre Spaventati Digimon Ma che cacchio è Allora Tyrannomon Con anche te Ehi Drago Sei cos'è Un Yakitori Certo che lo so È Roba molto buona Anche tu lo pensi? Bene Così sarà più semplice Fammi indovinare Vuoi mangiare Un yakitori Eh A dire il vero Sì Ma come faccio A trovare Un yakitori Non preoccuparti Se Se avrò I dati scan Di Cocatorimon Ah Potrò Farmeli Da so Da solo E come fai? Tutto ciò Che devi fare È raccogliere I dati? Esatto Potresti farmi Questo favore? Noi dovremmo Aver Noi dovremmo Già Averceli Io ormai Qua c'ho Tutto Sì Grazie Cocatorimon Si trova nel bosco Delle mangrovie Vabbè Colleziona Almeno il 100 Vabbè 100% Di dati scan I dati Di 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 Akatorimon Non Di Akatorimon Non sono deliziosi Non è Non è raccoglierli Per sbaglio Grazie Buona fortuna Che cosa? Drago Bentornato Com'è andata? Ovviamente è andata bene Guarda Wow È ciò che mi serviva Bel lavoro Oh bene E metto I dati Nel dispositivo E li elaboro Tramire il Buffering E voilà Il DG Iyaki Tori È pronto Ma dove Hai trovato Tutta sta Roba? Che poi Sei un T-Rex Tipo C'è tipo Tramite Tramite il Buffering Il buffering Sarebbe In realtà Tramite il Buffering Ti fai Gli akitori Eh Buon appetito Ecco Ecco Un processo Un processo Di buffering Si è fatto Lo yakitori Cioè quindi Ragazzi Anche voi potete fare Un yakitori Tramite Tramite questo Dispositivo Per i Buffering No Ma è normale E basta Tirannomon La tua Richiesta È stata Soddisfatta Direi Al 100% Ti metto In banca Macchina Tipo Allora Digimon Macchina Mutante Di tipo Drago Animale Sacro Vabbè Vedremo Garurumon Questa la Devo Ancora Vedere In realtà Rosmon Se Un Kenjimon 40 Più Lavori Un Kyukimon Devi avere Un Digimon Di livello 60 Superiore Come alleato Questo Ce l'ho Gulmon Gulmon Grigio E devo avere La Digifarm Oscura Gulmon Flare Rizzamon Ma Queste Non c'è Ma non c'è Gli ostisti Sti Digimon Non c'è Gli ostisti Digimon Kyukimon Kenkimon Un Rosmon Un Rosmon C'è Qua Se Se Ragazzi C'è Un Rosmon Garurumon Questo potrebbe essere Abbastanza Fattibile Macchina Mutante Drago Animale Si si potrebbe Provare Ma Non In questo Episodio Aspetta Fammi vedere Quanti soldi Ho Tanto per sicurezza Eeeh Guarda lì Quanti soldi Che ho Va bene Ragazzi Ma Direi Che per Il momento Che per Il Momento Digimon World DS Può Concludersi Nel Il prossimo episodio Continueremo Con i lavori E poi Dopo Visto che Ci sono Altri Digimon Che io Non ho mai Visto prima Presumibilmente C'è ancora Tempo Prima del Vero Boss Finale Adesso Così Un'idea Che mi è Venuta In mente Quindi Il prossimo Episodio Penso che Sarà Tipo L'ultimo Per quanto Riguarda I lavori Per I Digimon E poi Il E poi L'episodio Quello Dopo Ok Quindi Non Quello Top Ancora Andremo Avanti Con La storia Principale E voi E voi Tutti Finalmente Vabbè Visto che Ci siamo Fermati Un po' Possiamo Anche Riprenderla Visto che L'abbiamo Lasciata Un pochino Da parte Comunque Per questo Episodio Di Digimon World DS Direi che Tutto Vero Quello Che Senza In Scriversi Un Terzo Nasi Per Il prossimo Di Scriversi Nei Commenti E noi Ragazzi Ci risentiamo A un Prossimo Video Bella Ciao